e sta iniziando la mia giornata ebbene sì sono ritornato a fare blog sempre che dica sempre le solite cose tipo ora meglio scusate mi è caduto il telefono piccola precisazione sono talmente fuso di lavoro che ho dimenticato la videocamera ho dimenticato la canon a casa e quindi registrerò l'intero film sul telefono quindi se la qualità è leggermente più scarsa rispetto ai blog di prima sapete il motivo comunque ultimamente sono tanto che sto dicendo sempre le solite frasi ovvero il blog inizia qua sto facendo questo facendo questo parte di questa confusione dovuto anche al mio stato fisico soprattutto mentale degli ultimi mesi visto che sto lavorando come il pazzo quindi questo diciamo che sono quei piccoli sprazzi di gioia e di mente libera che mi concedo e stasera in particolare anzi per due motivi particolari il primo perché rivedo fabio sergio e salvo che mi devono dare il regalo di compleanno di circa un mese fa ma per problemi logistici quindi ci stiamo rivedendo dopo più di un mese per vedere il mio regalo di compleanno e in particolare piccolo spoiler vederci anche organizzarci per quanto riguarda il campeggio dell'estate 2022 che speriamo ovviamente che questa volta si faccia perché l'ultima volta è andato molto bene ma ne parleremo durante la serata non so perché ma stasera tre componenti del gruppo su quattro sono tre componenti su quattro sono vestiti con la maglietta bianca quindi se Sergio riesce a avere una maglietta quindi la foto di copertina è stata rovinata da Sergio e salvo sembra donkey kong il momento della verità il momento della verità il momento della verità il momento della verità il momento bianca Sergio è riuscito a regalarci la foto di copertina del blog senza farlo apposta tra l'altro ma una domanda qual è il titolo di questo blog panino e bianca granito d'altro mi piace ma si può andarci ma poi facendo con le magliette di bambino che bacio che fa bravo d'arcio pagato con satispegno 120 effetto da kineo centro grazie questo è un whisky giapponese che poi farò l'unboxing anche di un altro no perchè c'è in attesa un altro vlog che poi vedrete quello del boxing si speriamo di vederlo presto ma io prendendo le cose da fan c'è il bigliettino però questo lo leggo a parte perché sono una persona molto timida c'è introverso vi faccio vedere il bigliettino che tanti auguri le hanno la sua laurea è uguale e poi ci sono tutti i partecipanti comunque ora andiamo a mangiare che ho fame ad hoc che non c'è il buono da chi ne va no 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 come sta andando questa mangiata la birra è tutta registrata ma che faccio in godere il carlo italiana ci ha pagato per pubblicizzare completamente però sorgisana si e niente penso che ora mi mangerò io un kebab facciamo una piccola recensione del kebab di alfio e vediamo se è buono oppure no è un gelatino finale non glielo aggiungiamo? ah sì, inetta acqua il kebab di alfio, questa volta è piccolo a compari sono con quello di Gino il memory of mei tempi abbiamo messo la puga, pomodoro, cipolla, patatine, peperoni e salsa al formaggio perché non c'era quello lo yogurt quindi assaggiamo come primo tentativo gli diamo un 6 e mezzo sette serata conclusa alla grande siamo riusciti a bozzare un'idea per quanto riguarda il campeggio di quest'estate e quindi ora queste tre persone decideranno quando uscirà questo video domani, ora non aspetta, il 17 il 17 luglio uscirà questo video, grazie salvo quanti 10 giorni devo aspettare? il 17 agosto uscirà questo video un mese devo aspettare? per il colmeno di fatto facciamo settembre ma tu sei pazzo auguri Fabio grazie quindi facciamo gli auguri a Fabio salutiamo la tropper siamo arrivati a 2 minuti e 24 vi direi che lo possiamo tagliare buonanotte il voto del diafrio è 8 e mezzo 8 e mezzo metteremo la sigla conclusiva di questo vlog va bene? perfetto che è quasi venerlo